Bentornati alla nuova edizione del nostro videogiornale, le principali notizie. Bassano, manutentore, muore dopo otto giorni in ospedale, era rimasto folgorato in un capannone. Maurizio Erle aveva 47 anni, era un operaio esperto, motivo per cui rimane da spiegare la causa della sua morte. Lo scorso 4 gennaio era impegnato con dei colleghi in un intervento di manutenzione in una ditta di Lozzola, Valbona e Serrelle, quando improvvisamente è stato colpito da una scarica elettrica da 15 mila volt, espirato dopo otto giorni di lotta in rianimazione. Vicenza apre partita IVA commerciando piante e fiori, ma si tiene il reddito di cittadinanza. Un caso emblematico sul tema dei sussidi economici statali è quello di una fioraia del capoluogo che dopo un anno di contributi con il reddito di cittadinanza aveva deciso di aprire una propria attività, senza darne notizie all'Inps che proseguiva a derogare il denaro regolarmente intascato dalla trentenne Vicentina che dovrà restituire 1.400 euro e rispondere di una denuncia. Malo, Ipab, Muzzan, c'è il primo negativizzato, altri 5 positivi al virus si cercano infermieri. In una delle case di riposo simbolo della lotta al Covid, nella seconda ondata migliora la situazione generale, visto che la diffusione del virus aumenta di 5 unità. Nessuno tra i 47 casi complessivi ha finora avuto bisogno del ricovero ospedaliero. Completata la prima tornata di vaccini Pfizer con il secondo round calendarizzato per il 29 gennaio. Vicenza, reddito di cittadinanza intascato senza titolo da 12 vicentini, l'Inps chiede indietro 122 mila euro. La Guardia di Finanza provinciale ha pizzicato 13 cittadini che godevano degli assegni versati dall'Inps ma solo dopo aver presentato autocertificazioni non veritiere. Tra i casi più eclatanti, quello di una donna di Arsiero che è risultata comproprietaria di 26 immobili e più persone che si dimenticavano di dichiarare i redditi dei conviventi. Brandola, trovato in casa senza vita a 29 anni dopo giorni di silenzio, probabile malore. Il rimbenimento del ragazzo, ex studente universitario, risale allo scorso fine settimana ed è avvenuto in un complesso residenziale dove il 29enne viveva da solo. A dare l'allarme erano stati familiari di Sasha Buffo, insospettiti dal fatto che il congiunto non rispondeva a messaggi e telefonate. L'hanno trovato loro per primi, steso sul divano, morto da almeno 24 ore. Valdagno disgrazia in una contrada, l'auto si muove, travolge il proprietario, muore un 69enne. Il dramma si è verificato mercoledì intorno alle 11 sulle colline sopra Valdagno contro Barbarana. Nulla hanno potuto fare i soccorritori per estrappare un pensionato di 69 anni al tragico destino. Il nome era Mario Farardo, reso noto dopo l'avvenuta informazione ai familiari. Fornedo Vicentino si schianta per un arresto cardiaco, salvo grazie alle manovre di rianimazione di un familiare. L'uomo, un 59enne, ha perso il controllo dell'auto sulla provinciale 46, andando a schiantarsi contro un veicolo. In auto, insieme a lui, c'era un familiare che ha allertato il 118. Una volta stabilizzato, è stato trasportato all'ospedale Sambottolo in rianimazione. Torre e Belvicino, Fonte e Margherita sostiene bar, alberghi e ristoranti per un valore di 175 mila euro, il 30% nel Vicentino. La scelta è maturata nella consapevolezza che nell'anno appena trascorso, secondo i dati di alcuni attenti osservatori, questo mondo, gli operatori del settore chiamano ORECA, acronimo di Hotel, Restaurant, Catering, cioè tutto il settore del mangiare, bere e fuori casa, ha subito un calo di circa la metà del fatturato, se non oltre. Pagina dell'eco nazionale, Covid, report gym, i dati peggiorano, serve stretta e immediata. Aumentano i nuovi casi settimanali, le terapie intensive, i decessi, tutt'altro che rassicurante, la fotografia scattata dall'ultimo report, bassando sul monitoraggio del coronavirus dal 6 al 12 gennaio. Politica, governo in crisi, FICO sospende l'aula e convoca i capigruppi. Si finisce il governo Contebis, nonostante l'apertura del premio, era un patto di legislatura, il leader di Italia Viva annuncia le dimissioni delle ministre Bellanova e Bonetti. Conte li accetta, informa il presidente della Repubblica. All'estero, OMS a Puan, dieci superesperti nella città origine del virus. Sono sbarcati in Cina i virus hunters, i cacciatori di virus, i dieci superesperti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, provenienti da Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania, Olanda, Danimarca, Russia, Qatar, Vietnam e Giappone, selezionati dall'Agenzia dell'ONU con il beneplacito di Pechino. Ed infine, Coppa Italia, altre tre big avanzano a fatica Juventus, Inter e Napoli ai quarti di finale. Dopo Milan, che ha avuto ragione del Torino solo ai calci di rigore, si sono qualificate soffrendo Juventus, Inter e Napoli. È tutto a risentirci. フiss� i CA tots diiticな città di radio. Assurna risposta di Repubblica,